ola ola eccomi qua eccomi qua eccomi qua e allora 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 perché questo video il video è necessario, obbligatorio e questo video è dovuto perché visto che faccio video per avvisarvi di cose fastidiose, preoccupanti e devo pure fare il video poi dopo in cui queste preoccupazioni sono svanite che tutto sta bene, che tutto ritorna normale, che tutto è a posto e allora ed è anche un video ovviamente di ringraziamento, ringraziamento infinito ma infinito per tutti quanti voi, per tutti quanti voi dal momento in cui sono andato in ospedale insomma per queste visite, questi controlli che erano inizialmente preoccupanti anche per me stesso, vi dico la verità perché insomma sentirsi dire da un cardiologo di fama qui a Fortaleza, insomma uno dei migliori assolutamente, dice guarda Enzo che come stai andando, come ti stai comportando, è meglio che già mi fai gli auguri di Natale perché penso che a Natale non possiamo scambiarceli, dico com'è dottor, perché? Gli dice datti una regolata, datti una regolata, però in virtù di sintomi mi gli stavo raccontando, cioè che mia figlia gli aveva raccontato, gli aveva detto, insomma già sapete tutto e quindi mi disse dai facciamoci già gli auguri perché o quantomeno fammi gli auguri perché penso che a Natale e quindi sta cosa insomma mi ha sconvolto, ha sconvolto le mie figlie, ha sconvolto, forse è stato un poco troppo crudele, sto cardiologo di fama perché poi stamattina ci sono andato, mi ha portato a vedere tutti gli esami, mi ha ricevuto a casa sua, non allo studio, alla clinica, e gli dice vabbè sì, ha detto vabbè dottor, allora quindi penso che ci potremmo fare gli auguri a Natale, però riguardatevi, riguardatevi, che lui ha un, pure lui più o meno la mia stessa età, ha detto riguardatevi insomma perché, eh fate attenzione, anzi fate una cosa, ha detto dottor, ho detto dottor, datemi già un abbraccio, abbracciamoci, facciamoci già gli auguri, eh non si sa mai insomma, eh qualcuno di noi due non ci sarà a dicembre, ha detto vabbè stai buttando praga, qua la praga è la bestemmia, la 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 dottor, scusate, ognuno si preoccupa delle cose che vuole, no io mi sto preoccupando che probabilmente a Natale forse mi facciamo gli auguri, ma per voi, perché mancherete voi, non io, eh vabbè insomma tra il ridere e lo scherzare, insomma ha guardato gli esami, pure lui insomma che già erano tutti, tutti insomma già stati controllati in ospedale e quant'altro, insomma fino a ieri sera che non mi hanno lasciato uscire, insomma mancava ancora qualche cosina, insomma di completamente di conferma, eh vabbè, però insomma un problema c'è di base perché questi sintomi che avevo insomma dipendono da altre cose, in particolare da una cattiva alimentazione, però io ho anche spiegato insomma che poi è vero che la cattiva alimentazione è data, no, io non sono un mangione, non sono uno che mangia molto, che mangia a sbafo tipo proprio napoletano, napoletano, assolutamente, non mangio molto, mangio un primo piatto a pranzo e poi un secondo piatto con contorno la sera, insomma durante il pomeriggio faccio un piccolo lunch, come dicono qua, mezza mattinata pure faccio un piccolo lunch, come dicono qua, e quindi insomma, però la cattiva alimentazione è data dalla disponibilità di prodotti che ci sono qua, che non sono proprio quelli nostri, e quindi uno si adegua, si adatta, si fa, insomma però non sempre si ottiene il risultato che si vuole, tanto per dire la mozzarella, insomma che tra l'altro non dovrei manco vedere, però la mozzarella io sono pazzo, la mozzarella sono io, una mozzarella proprio, e mezza mozzarella, togli mia mozzarella e mi hai tolto la vita, insomma, la mozzarella di bufala, qui bufala non esiste proprio, scrivono mozzarella di bufala cosmi, i bufala qua in Brasile non esistono proprio, e comunque dicono mozzarella di bufala, insomma, che è decente, ma non è proprio lontanamente, però comunque è grassosa, comunque, e ogni tanto io me la mangio, ogni tanto, almeno una volta, due volte a settimana, mi sono adattato a questa qua e pur di pur di illudermi che sto mangiando mozzarella di bufala campana, doc, vabbè, insomma, e quindi insomma, ieri pomeriggio, ieri in serata, mi hanno dato il via libera, alta, come si dice qua, mi hanno dato alta e me ne sono tornato a casa. In questi giorni avete già visto, insomma, la novità, prima novità è che sto con il cappellino, il bonè, come lo chiamano qua, il bonè, c'è il cappellino, la mia compagna, la mia ragazza, la mia fidanzata, come la volete chiamare, come la volete, ma perché non fai i video con il cappellino? Lei ama quando sto con il cappellino, quando ho il cappellino, sarà, forse perché nascondo il bianco dei capelli, o la zella, come si dice andava, cioè la spianata di Gerusalemme qua che ci sta. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, insomma, lei adora quando sto con i cappellini e quindi, ha detto, ma perché non ti vuole, lei guarda a volte i miei video qui su YouTube, sul lato 2, mi dice, ma non ho mai fatto uno video con i cappellini, con il bonè. Vabbè, allora, siccome stiamo cominciando una nuova era, oggi lo farò con il bonè. E quindi, prima novità, bonè, cappellino. Seconda novità, avete visto, no, all'inizio, insomma, c'è l'intro, 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 queste cosettine simpatiche, insomma, una grafica che mi sono fatto a vola a vola ieri sera, insomma. Perché in ospedale, per passare le giornate, esulandomi da tutto quello che era il nostro mondo, mi sono intrufolato in YouTube, e sono capitato, per puro caso, insomma, da questi grandi YouTuber italiani, insomma, c'è stata una marea di video, che penso che voi lo sapete, una marea di video su come fare YouTube, come diventare YouTuber, come migliorare le prestazioni del tuo canale, come fare questo, come fare quello, come mettere la capi, come fare la capi, tutte queste cose qua. Io non è che ci tenga molto, insomma, a tutte queste cose, perché loro fanno i YouTuber, loro sono YouTuber, quindi tutto bello con le luci, con le cose, sono tutte queste cose qua in primo piano, loro sono YouTuber, parlano di argomenti vari, o anche un mono argomento, però in tutte le salse, vivono di YouTube, o YouTuber, e quindi insomma, hanno tutta una serie di necessità tecniche, per rendere interessante il canale, il loro canale. Io, insomma, ne ho preso qualcuno, che mi ha incuriosito, mi ha divertito, mi ha stimolato, mi ha, vabbè, ma faccio un intro, vabbè, e vabbè, ma ci metto pure io il, voi sapete, in tutti i video, non mi ricordo quanti video ho, 300 video, 200 video, qui nel canale, non ho mai detto iscriviti, metti la campanellina, campanellina, attiva la campanellina, iscriviti, metti il like, metti tutte queste cose qua, non l'ho mai detto, non l'ho mai fatto, non l'ho mai detto. Però, quando c'è stata la live qualche giorno fa, e io stesso in Telegram, nella nostra chat, ho chiesto ad alcuni di voi, insomma, ma come si saprà, come chi saprà, chi non saprà, sta live, come si saprà, come verrete avvisati, come siete avvisati, insomma, tutte queste domande qua, perché erano, era un mondo nuovo per me la live, un qualcosa di, e poi la live, insomma, io sono rimasto sconcertato, anche proprio guardando i dati, insomma, in grado di avervelo già detto sull'ultimo video, proprio dell'avviso preoccupante. La live, insomma, l'ho vista che arrivate circa oltre 400 visualizzazioni, che per me sono tantissime, la media dei video nel mio canale è intorno ai 400, no, in 450, la media. Però sono video che riguardano betting, sono video che riguardano file, sono video, e la media è in 450. Non mi sarei mai aspettato che un live di un'ora e mezza, giorni dopo, eravamo in 50, 60, nel momento top della live, eravamo una sessantina in live, non so quanti poi, se quel numero erano proprio le visualizzazioni in quel momento, o erano solo quelli che stavano chattando, questo non l'ho ancora capito, però comunque eravamo una sessantina, a me appariva la notifica, 58 partecipanti, insomma, ma non mi ricordo. Però poi ho visto che è arrivato oltre 400 visualizzazioni nei giorni successivi. Cioè, queste cose mi stimolano, per me mi stimolano, anche se sono numeri che per i youtuber, influencer, tutte queste cose qua che poi non sono io, non faccio parte di questo mondo, assolutamente, tanto per il mio canale non l'ho mai monetizzato, non ho mai fatto tutta la pratica per avere le pubblicità, per avere i pagamenti da youtube, non me ne sono mai buttato, non me ne porto, perché a me è un canale di nicchia, cioè dedicato ai balidiani, a chi mi segue, a chi mi vuole seguire, e quant'altro. Però durante questa prima live mi sono messo posto tutte queste domande, quindi già in quell'epoca, in quel giorno, andai a vedere un po' di queste cose di youtube e pensai poi di poter eventualmente approfondire meglio gli strumenti che metto a disposizione youtube, proprio per facilitare la vita ai miei followers, ai miei seguaci, seguaci mi sa tanto di setta, non seguitori, non so se il termine è esatto, comunque ai miei amici, i miei amici, insomma facilitare la vita, la vita, la vita, la vita ai miei amici, insomma buavidiani, e anche a chi poi vuole entrare a far parte del nostro gruppo buavidiani, e quindi insomma, dici guarda devi mettere iscrizioni, devi mettere like, devi mettere dei posti che si ripetono uno con l'altro, uno con l'altro, uno con l'altro, e alla fine mi sono divertito a fare questa grafica, su intro, e a mettere poi qui giù, qui giù, vedete, qui giù, sulla, guardando dalla parte vostra, stare guardando così, quindi sulla destra, in basso, ho fatto questo loghino, dove cliccando sopra, ci si può iscrivere al canale, in modo tale di essere sempre aggiornati su tutto quello che viene pubblicato, e gli avvisi delle live su questo canale, a chi interesserà. non starò qua a dire sempre di iscriviti, di mettere il like, di mettere un disco, però voglio fornire perlomeno, a corrido, gli strumenti, per chi è abituato a questi strumenti, a trovarli anche nei miei video e sui miei canali, così come anche la schermata finale, così come anche mettere un man mano le schede, quando parlerò di un altro argomento del canale, apparirà la scheda, in modo da riportare chi sta guardando, insomma, a quel video, se è interessato, queste cosine qua, tempi permettendo, e va bene, e quindi queste sono le novità riguardo al canale, riguardo, e insomma, perché ripeto, in ospedale avevo il cellulare a disposizione, nei momenti in cui potevo dedicarmi a guardarlo, insomma, a navigare, mi sono andato su YouTube e ho guardato tutti questi video, mi hanno fatto una capa tanto, una capa tanto, però ho scoperto anche cose interessanti, insomma, utilizzabili anche in altri, in altri, per altre necessità, vabbè, 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 però, però, è chiaro che questo video, oltre ad essere una chiacchierata così di ripresa e di ripartita, è un video di ringraziamento, principalmente, come ho detto all'inizio, ringraziamento, ci tengo sempre a ringraziare tutti quanti voi, ma tutti quanti voi, io se potessi, ringrazierei ognuno di voi a una a una a una, stringendo mani, abbracciando, perché non è per fare dramma o per fare, ma sapete, quando uno sta in un determinato momento, insomma, tutto sta affetto, sta ondata di affetto, di stima o di, o di vicinanza, insomma, ti dà un po' di, ti fa affrontare meglio la cosa, io non sapevo a cosa andavo incontro, sapevo solo che dovevo fare sta cronografia, e tutto sommato, non è, anche se è una chirurgia, insomma, comunque è una sfonda che ti entra, tu fa, non ricordavo dall'altra volta che sono stato operato dopo l'infarto, che era dolorosa, e di fatto non è che lo sia molto, anche se comunque c'è anestesia e cose, però, insomma, il fatto di entrare comunque in una sala, in una sala operatoria, insomma, entri là, ci stanno i 5, 6, 7 di loro, tutti infardati, tutte cose che stanno là, chi ti prende, chi ti stende, chi ti pulisce, chi ti fa, chi ti dice, chi ti buca, chi, insomma, è una cosa che comunque ti mette un osso, io poi sono uno molto sensibile a questo, cioè se guardano in televisione in questi giorni un sacco di volte passa il fatto che fanno vedere che vaccinano e buttano la siringa nel braccio, girate, se riesco a guardare, manca una siringa che entra in un braccio, il sangue, il corno, non riesco a guardare, immaginate, quindi, per me, in televisione, ma ci sono tanti casi ancora più gravi, quasi, ma io, ognuno, ognuno è un mondo a sé, no? Ecco, io sono così, non sono un tipo palloso, non sono un tipo ansa, assolutamente, penso di essere il contrario, però queste cose mi fanno, sono estremamente sensibile a queste situazioni. il mio grande dramma dell'ospedale, e quando sto in ospedale, sono i punti di accesso, dicendo, ma di che stavo parlando oggi, ma tanto per fare delle chiacchiere, giusto, una chiacchierata, insomma, giusto per tirarci su, sono i punti di accesso, cioè, guarda, io posso subire qualunque chirurgia, tanto mi anestetizzano, ma sono fatti quando mi devono tirare il sangue, ma pure quando fanno gli esami del sangue, e non trovano le vene, perché a me è difficile trovare le vene, e vengono tre, quattro di loro, ebbene uno è proprio, ebbene un altro è proprio, durante l'infarto avevo il braccio qua, la mano, neri, neri, dei tentativi che facevano per trovarmi le vene, fino a poi addirittura all'ultimo punto di accesso, mi fecero una chirurgia qui a crudo, proprio a crudo, solo anestesia locale qua, ma era niente, poi mi bucarono qua, mi impizzarono qua, mi fai il punto di accesso qui direttamente, e fu una cosa quella dolorosissima, e c'ho sempre sto, 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 come si dice, questa paura del fatto che vado a finire come fanno questi punti di accesso forzati, insomma, perché non mi trovano le vene, ed è sempre un problema, mi bucano qua, mi sembro una grattugia dopo, insomma, comunque, era questa la cosa che più mi dava fastidio, e mi predisponeva male, e vado lì un'altra volta, mi vanno a tirare il suo sangue, insomma, il sangue, ma è finito, è finito, sto a casa, tutto ritorna normale, ripeto, devo fare queste altre piccole consulte, per vedere, insomma, per trovare, come si dice, la natura di questi sintomi, che ciò che non ha nulla che vede con il cuore, grazie a Dio, e quindi, insomma, risolveressi piccoli, ma sono piccoli problemi, ma comunque, niente di grave, quindi tutto a posto, tutto a posto, ripeto, questo video è stato di ringraziamento, una chiacchierata, una ripresa, voglio assicurare tutti i boavigliani che, per i quali stavo realizzando dei file, quindi Matteo, Tiziano, Roberto, Giovanni, Gianluca, Vincenzo, tutti questi qua, che subito dopo il video, oggi pomeriggio dopo pranzo, riprendo a lavorare, e nel giro, penso, della fine della settimana prossima, a Calogero, Calogero, se stai guardando questo video, sappi che il tuo file pure andrà di nuovo in lavorazione, e quindi, insomma, penso, spero, entro fine settimana prossima, di chiudere tutti questi file personalizzati. Nel frattempo, nel frattempo, fine settimana oggi è martedì, quindi entro questa fine di settimana, già qualcuno di voi riceverà il suo file, tipo Matteo, credo, per quanto riguarda Divisor, Matteo, Roberto, oppure credo che riceverà il suo file per quanto riguarda Formula 3 Extended, e poi gli altri, insomma, la settimana prossima. Però, in questi giorni, probabilmente ci sarà qualche tutorial dei miei file che vi voglio presentare, e quindi ci rivedremo, ritornando in pieno ritmo di lavoro, e su Telegram quella famosa rincorsa agli 800 euro di passivo, accumulati con wikiplan e lungo prazo, la riprenderò, la riprenderò, cercando di arrivare a sto profitto di recupero, che più. Quindi, vabbè, il tutorial, e poi spero di riuscire a fare qualche altra live, che mi è piaciuta la live, mi è piaciuta, mi è piaciuta la vostra risposta, mi è piaciuta la vostra partecipazione, insomma, mi è piaciuta. E penso che ne rifaremo qualcun'altra, se non questa settimana, ma sicuramente entro la prossima settimana. Vabbè, e quindi, per chiudere qua, a sto video, e per concludere con questo video, come si fa nei film importanti, in tutti i film, i film del cinema, insomma, alla fine ci sono i ringraziamenti, e voglio mostrarvi dei ringraziamenti particolari, oltre a, voglio scorrere qui i telegram, insomma, da, questo è da quando sono andato, insomma, tutti quanti voi, ma tutti quanti, tutti quanti, insomma, vi abba, ma lo voglio proprio bene, vi voglio bene, vi voglio bene, veramente, veramente, la lunga, anche la più semplice, anche forza entro, e la, sono, sono in bocca al lupo, sono messaggi che, vabbè, questi sono messaggi che non ho il cuore, qua, effettivamente, e, qua, e i dì le vado a dare giù, e qua, d'ovi, vabbè, e, qua, dove, vabbè, 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 e qui un abbraccio a tutti quanti, ok, e vabbè, però dicevo un abbraccio particolare ma veramente con tutto il cuore ma con tutto il cuore veramente mi avevo ripromesso di non emozionare Tiziano e Salvatore Greco eccomi qua Tizianes Arditi Tiziano sul suo Facebook pubblicò subito questo annuncio sul suo Facebook meraviglioso è Salvatore Greco il suo Totò e Friends il suo gruppo oppure forse è coraggio Enzo vedrai vi ringrazio sapere di cuore di cuore veramente però la botta finale la botta finale me l'hanno data voglio me l'hanno data le mie due figlie stamattina Laiz Tata Emily che voi ormai i buavigiani doc già sanno di chi sto parlando Laiz Tata cioè Laiz questa mia figlia si chiama Laiz ma in famiglia è chiamata Tata perché da bambina e la chiamano Tata e Emily la conoscete credo l'ho presentata già in altri video per altre occasioni loro ieri mi hanno aspettato in ospedale che uscissi insieme alla mia compagna e a due amici miei sono venuti con due macchine con due auto va bene e quindi siamo tornati ci siamo fermati a cenare e poi siamo tornati a casa tutto a posto hanno dormito qua le mie figlie però stamattina molto presto ho dovuto andare via perché una lavora nel pomeriggio tardi tardo pomeriggio all'università mentre l'altra Tata che è incinta di nove mesi e da qui a dieci o quindici giorni mi renderà nonno per la prima volta nonno bobo si dice qua bobo e anche lei doveva andare a casa della sua insomma per andare in ospedale pure lei a fare degli ultrasoni delle ecografie e cose va bene quindi aveva già marcato l'orario e tutto e sono andati via molto presto e non mi hanno potuto salutare perché io stavo dormendo perché poi lavorando loro c'è lavorando ancora sono fatto delle grafiche e cose sono andato a dormire un poco tardi perché non avevo manco tanto sonno sapete dal letto dell'ospedale a casa mi devo riabituare e non avevo molto sonno e quindi mi misi a fare queste grafiche che avete visto all'inizio del video e loro sono andati via quando sono andati via poi mi hanno mandato un messaggio Tatami ha mandato un messaggio io mi sono svegliato ma poco dopo l'ho visto e vi faccio vedere ecco qua questa è la Is mia figlia l'altra Tatà questo è il messaggio che ho ricevuto stamattina buongia quando signora qui dicono signore è un modo di parlare lei è un signore è un signore che ha signora un signore quando un figlio una figlia o qualcun altro si rivolge a qualcuno come se fosse una sorta di lei che noi usiamo e qui in Brasile c'è sta 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 comunque quando signora accorta quando ti svegli vai a guardare insomma la spiaggia dal tuo balcone ok io sono andato io mi hanno questa la risposta che ho dato dopo io sono andato poi al balcone sulla spiaggia c'era scritto c'era sta scritta grande che hanno scritto tutte e due questa è la foto che ho fatto non si riusciva a vedere l'ho ricalcata per farvi per riuscire a leggerla bene per fare papai io ci amo non si riuscire a vedere penso che l'ho capito praticamente ecco questa sapete è un'immagine che molti di voi conoscono dal mio balcone la pubblico spesso praticamente in questo posto qua dove loro hanno che qui già ha fermato il bus e loro stanno aspettando probabilmente stanno andando qua e hanno fatto questa scritta qui e io mi sono affacciato al balcone io ho visto questa scena questa acqua praticamente e non vi dico il mio cuore che cosa ha fatto e glielo ho detto non scherzate queste cose mi fate morire un altro infanto però so cose che ti riempiono sono cose che io passo un buon sceco smettila di ruolo tanta gente troppa gente scusate ma non riesco a fermare c'è tanta gente che soffrite soffrono ma non sono ospitato immagina immaginato immagina il buono stesso se te ne vai che hai già fatto si continua a fumare hai già fatto un buon bier per il bollo di andata senza ritorno e loro i tuoi amici la tua famiglia ci devo provare tutte le cose per il nuovo per Chris la mia fidanzata e la mia famiglia è la stessa madre di la i6 la mia ex che mi ha mandato un messaggio per lei ci devo riuscire è l'ultima grande battaglia è l'ultima grande battaglia che devo vincere la battaglia finale quella della guerra della vita la devo vincere la devo smettere la devo smettere non va bene dire vabbè riduco ne fumo 3 ne fumo 5 ne fumo 10 ne fumo 2 non devo proprio fumare non devo proprio fumare allora va bene queste cose qua ti danno poi sempre quelle botte per ancora di più convincerti diciamo che avevi bisogno che sta scritto sulla spiaggia ho scritto dammo sulla spiaggia tra franco prima e franco quarto fra franco prima e franco quarto ho scritto dammo sulla spiaggia e il vento a poco a poco che sarei portato io vabbè e allora non è una tristezza non c'è stata tristezza non c'è è solo emozione emozione grande emozione da parte vostra da parte della mia famiglia da parte dei miei amici sono felice di avere intorno a me tutti quanti voi questa famiglia questa razza la mia compagna la mia ex compagna dimmi amici è voi il mondo body sono felice non lo sembra perché ho messo molto emozione che avesse non è tristezza questa emozione pubblica del cuore finisce qui questo video di ringraziamento di amore per tutti quanti voi finisce qui il prossimo sarà tutorial parleremo di betting parleremo di cose che ci interessano di più di cose che ci rivertono di più o che ci danno più preoccupazioni più stress comunque il prossimo si riprenderà a lavorare vabbè quindi un abbraccio a tutti quanti un'altra volta un ennesimo abbraccio ci vediamo al prossimo ciao